Il Paradisi delle Signore 8, anticipazioni, Marcello Barbieri non se lo aspetta, la scioccante sorpresa. Nelle nuove puntate del Paradisi delle Signore continuiamo ad esplorare il rapporto tra Marcello Barbieri e Matteo Portelli. I due fratellastri avranno la possibilità di avvicinarsi l'uno all'altro, ma i nuovi arrivati saranno molto confusi su cosa fare poiché la madre non vuole davvero che approfondiscano il loro rapporto con Marcello. Ma per quest'ultimo si è trattato di una sorpresa del tutto inaspettata che potrebbe cambiare la situazione di stallo. Vediamo insieme l'anteprima dell'ottava stagione della SOP di Rai 1. Anteprima Paradisi delle Donne, Matteo lascia a Marcello la nuova stagione della popolare SOP Rai 1 e iniziata con alcune novità inaspettate per Marcello Barbieri. Matteo Portelli è arrivato a Milano spacciandosi per suo fratello, allarmando i soci di Salvatore. Dopo qualche ricerca, con l'aiuto della sorella Angela, che gli suggerisce di leggere una lettera che i suoi genitori tenevano in una scatola segreta. Marcello scopre che Matteo è in realtà il suo fratellastro e che suo padre aveva una passione per un'altra donna. È una relazione d'amore. Ho capito che era il risultato del versamento. L'amore ha avuto una brutta fine. Barbieri decide quindi di dare una possibilità al fratellastro mentre conversa con la madre. Sua madre gli dice di lasciarlo in pace e di smettere di parlare con Marcello, cosa che porta alla sua scomparsa. Ma qualcosa cambia grazie all'aiuto di Maria Pugliesi, che si mette all'inseguimento di Portelli. Questo perché è interessata al ragazzo e perché vuole aiutare la sua amica. Anteprima il Paradisi delle donne, una strana sorpresa per Marcello non esistono scommesse facili per Marcello Barbieri. Dalle anticipazioni della nuova stagione del Paradisi delle Signore emerge infatti che la compagna di Salvatore agirà su due fronti. Capisce cosa sta succedendo con Matteo Portelli, il loro legame che non può essere ignorato, e rifiuta la gelosia e l'intimità con Adelaide. Adelaide sembra stufa della situazione, ma Maria finisce per aiutare Marcello a riportare in carreggiata e il cognato scomparso, di Santerasmo e Umberto Guarnieri. Nella prossima puntata della S.O.P., che andrà in onda su Rai 1, Barbieri vivrà in casa una sorpresa inaspettata. Ma che razza di sorpresa è questa? Secondo l'anteprima, potresti dover affrontare due scenari. Quando Marcello apre la porta, sorprendentemente, Angela è tornata a Milano e lo aiuta a capire come avvicinarsi a Matteo, riuscendo anche a parlare con il suo nuovo membro della famiglia. Seconda ipotesi, Marcello riceve la visita di Matteo, che tiene Puglissi all'oscuro. Matteo rivela il motivo della sua scomparsa e gli chiede di smettere di cercarlo e di abbandonare la scena del crimine. Per scoprire quindi cosa accadrà bisognerà attendere la nuova puntata del Paradisi delle Signore.